Non abbiamo documenti precisi che attestino data e luogo di nascita di Jan van Eyck. Molti studiosi tendono a fissare il 1390 per quanto riguarda la data e la città di Maseyk nell'Imburgo per quanto riguarda il luogo. Anche sui suoi inizi non si hanno notizie sicure fino al 1422, anno in cui l'artista risulta al servizio di Giovanni di Baviera, conte d'Olanda. Nel 1425 Filippo III, duca di Borgogna, il quale aveva sentito celebrare il talento dell'artista e aveva anche avuto modo di apprezzarne personalmente l'ingegno, prese a servizio Jan. Il giovane artista divenne così pittore di corte con un salario fisso. Filippo nutri per van Eyck affetto personale e alto riguardo professionale. Più di una volta a Jan furono affidate missioni diplomatiche, in particolare in Portogallo nel 1428-29. L'artista prese parte a un'ambasciata per combinare il matrimonio tra Filippo e una principessa portoghese. Dopo il rientro dal Portogallo, Jan si stabilì definitivamente a Bruges, dove comprò casa nel 1432. Le opere di van Eyck ritraggono fedelmente il benessere economico e lo splendore di città come Gande, Bruges e Ypres, che stavano allora risvegliandosi dal torpore tardo medievale. Van Eyck, tra i primi ad usare la pittura a olio, riprodusse con minuzia di particolari i tessuti e gli aridamenti interni d'epoca, documentando un mondo ormai perduto. Dopo essere entrato al servizio di Filippo III, Van Eyck realizzò i suoi lavori più celebri. L'adorazione dell'agnello mistico, anche detta Politico di Gande, realizzata per la cattedrale di San Bavone, gli assicurò un posto nella storia dell'arte. Anche per le controversie che accompagnano tutt'oggi questo capolavoro. Il dibattito è incentrato sul ruolo e sulla stessa esistenza del fratello maggiore di Jan, il pittore Hubert Van Eyck. La qualità pittorica è altissima e riesce a rompere la barriera che normalmente separa lo spettatore dall'opera, una maestria tecnica che lascia senza fiato. L'uomo col turbante conserva la cornice originale dove si legge la firma del maestro e la data. Alcuni critici hanno proposto come soggetto del dipinto il suocero di Van Eyck o il pittore stesso. È un'opera chiave per comprendere l'interesse che l'artista aveva nei confronti della caratterizzazione psicologica più che di quella fisionomica. Un'altra opera chiave nella produzione dell'artista è il ritratto dei coniugi Arnolfini, diventato una vera icona dell'arte. Questo dipinto è il certificato pittorico del ruolo sociale ed economico del matrimonio nella società fiamminga. Inoltre è un esempio di pittura sull'arte dell'illusione e sul potere dello sguardo, diventando un punto di riferimento per le generazioni successive. Seguono due madonne capolavoro, commissionate da privati. Quella del cancelliere Roland, incontro mistico tra la vergine e il committente, a cui fa da sfondo una splendida città immaginaria, è quella del canonico Van Der Peel, nel cui ritratto ritroviamo uno splendido realismo senza tracce di idealizzazioni. Il lavoro dell'artista si svolse così tra la corte e alcuni ricchi committenti, membri di una ricca società mercantile in quegli anni in ascesa economica. È da segnalare l'interesse di Jan per il monocromo, presente in diverse tavole in cui l'artista dipinse delle figure a modi statue. Statue viventi, inserite in spazi chiusi, a volte riflesse da lastre specchianti che fanno da sfondo. Nel 1441 l'artista morì e venne sepolto nella chiesa di San Donaziano a Bruges. Pochi anni dopo la morte la sua fama di pittore di grande statura e importanza si era già diffusa di qua e di là dalle Alpi. È considerato uno dei fondatori della scuola olandese. La sua tecnica divenne un modello accettato dai pittori successivi e la sua influenza fu vasta in Europa. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!